Carenze di organico, poche nuove leve in arrivo, malattie sono tra i principali fattori che incidono negativamente sulle ferie. Dai medici agli infermieri passando per i tecnici e con l'estate le porte cresce la preoccupazione del personale sanitario dell'Asli di Teramo per la questione relativa appunto alle ferie stive. Per questo motivo la segreteria territoriale di Teramo della Will FPL ha sottoscritto una nota ai vertici dell'Asli di Teramo per chiedere turni di riposo adeguati durante l'estate. Purtroppo dopo l'emergenza adesso in questo periodo diciamo che si inizia una nuova vita all'interno degli ospedali di Teramo, dell'Asli di Teramo abbiamo che gli operatori sanitari non solo hanno problemi nel fruire del riposo che hanno maturato ma anche questo riposo potrebbe incidere fortemente sui servizi, specialmente i servizi di emergenza che devono avere un presidio aumentato durante il periodo estivo perché sappiamo benissimo che le rianimazioni e il pronto soccorso durante il periodo estivo lavorano molto di più, specialmente quelli periferici verso la costa. La Will esprime anche preoccupazione per degli spostamenti di personali che si prospettano e potrebbero non essere adatti a garantire la piena funzionalità dei servizi e la sicurezza degli stessi operatori sanitari. Noi abbiamo raccolto le preoccupazioni dei dipendenti che si vedono dal giorno alla notte cambiare i propri piani ferie, nel vedere che i servizi che vengono prospettati potrebbero non dare quella garanzia agli utenti ma a loro stessi nell'operare in sicurezza all'interno dei reparti e degli ambulatori. Perciò chiediamo alla ASL di intervenire, di verificare esattamente qual è attualmente la forza lavoro che è necessaria e di prendere le decisioni che si devono prendere perché a volte alcune decisioni come gli accorpamenti o addirittura purtroppo le chiusure di alcuni reparti in alcuni ospedali devono essere fatti per garantire non soltanto il riposo degli operatori ma soprattutto la sicurezza nell'assistenza a degli utenti perché se no prima o poi potrebbe succedere qualcosa che nessuno vuole che succeda. Ovviamente voi chiedete tempi celeri perché l'estate è arrivata. Sì, tempi celeri perché tutte le gravatorie che sono oggi attive, sia la stabilizzazione dei precari che oggi abbiamo anche un incontro con l'assessore alla sanità regionale sono procedure che verranno a maturazione probabilmente dopo l'estate perciò oggi si deve verificare questo e si deve dare certezza agli operatori che lo meritano dopo tutto il periodo emergenziale dove si sono impegnati al massimo e soprattutto agli utenti che meritano un'assistenza qualificata e costante.